Chi non seguirà la linea politica stabilita dal Partito Democratico dovrà assumersene la responsabilità. Serve un segretario cittadino autorevole con il quale si stabilisca un indirizzo unitario. Cerchiamo condivisione. Non usa mezzi termini il gruppo dirigente del primo circolo del Partito Democratico di Gela che chiarisce di non condividere il contegno politico dei consiglieri comunali che rappresentano attualmente il Partito Democratico all'interno dell'assise civica. Noi intanto abbiamo una priorità. La priorità è quella di costruire il Partito Democratico. Il 20 dicembre ci sarà la fase congressuale e noi abbiamo il dovere, così come già abbiamo rappresentato al presidente provinciale del partito, di fare uno sforzo, una candidatura unitaria. Oggi il PD non ha bisogno di un segretario di schieramento. Oggi c'è una città che deve essere interpretata da una politica, la politica del Partito Democratico, che si appresta alla fase congressuale, che i rappresentanti in consiglio comunale con la guida del partito che si farà dovranno pungolare e stimolare un'amministrazione comunale per me in questo momento disattenta su molti temi della città, lo farà in maniera costruttiva ovviamente perché il sindaco e l'amministrazione comunale vanno aiutati in un percorso nell'interesse della città e lo spirito del Partito Democratico è quello di aiutare con le proposte, con le idee ma rimanendo nel ruolo che oggi la città ci ha dato come dimensione, che è quello che alle ultime elezioni ci ha detto il Movimento 5 Stelle andrà a governare, il Partito Democratico andrà all'opposizione. Un partito è fatto di regole. La nuova guida politica del PD servirà a far rappresentare nella città una proposta, un'idea di un governo alternativo al Movimento 5 Stelle. C'è anche un chiaro riferimento alla recente richiesta dei consiglieri Malluzza e Panebianco di entrare a far parte del PD che non ha ricevuto riscontri positivi. Io, due consiglieri comunali giovani che hanno messo la faccia sul segno del sindaco Fasuro nell'area del centro-sinistra, quindi alleati col Partito Democratico, l'avrei fatto entrare anche perché a noi abbiamo accolto nelle nostre liste del Partito Democratico gente che veniva da esperienze di altri partiti, di altre aree addirittura di centro-destra che oggi rappresentano il Partito Democratico, non soltanto a Gela ma un po' in tutto il Paese. Quindi a maggior ragione due giovani io li avrei fatti entrare subito perché noi siamo un partito aperto, non chiuso. La fase congressuale servirà anche a questo, a far capire che oggi non possono essere prese delle scelte personali ma c'è un partito che discute democraticamente e affronta i temi così come la città oggi ha bisogno sui temi sociali anche sui temi interni della vita democratica di un partito.